Buonasera a tutti, ringraziavo Voltini, poi volevo ringraziare il primario per fare una sviolinatina, ma è appena uscito, vabbè fa niente. Volevo ringraziarlo per l'argomento che mi è stato affidato e diciamo è molto gradito e facendo una piccola digressione, volevo dire che mi è stato gradito rispetto agli argomenti delle volte precedenti, perché nel 2009 il dottor Olivetti gentilmente mi aveva affidato a questo argomento, diciamo conoscopia virtuale, che nonostante sia appassionato è un argomento interessante, però forse non come genitali femminili. Nel 2010 mi presento un argomento diciamo più o meno dello stesso livello, quindi penso che le relazioni scorse di conoscopia virtuale, non so, riguardavano queste immagini, che possono essere più o meno interessanti, di verticoli, masse, polipi, insomma lesioni espansive di questo tipo. Per non parlare che l'esame, diciamo anche per voi tecnici, non è che sia al massimo della vita, perché spesso i pazienti finivano in questo modo l'esame, o magari anche prima di essere eseguito. Quindi l'argomento di quest'anno, come giustamente ha introdotto Beppe Voltini, mi piace particolarmente, anche perché mi fa riecheggiare a delle opere d'arte di questo tipo. Quindi penso, parlare di genitali femminili mi fa pensare a queste opere d'arte, diciamo, eccezionali e irripetibili, ma anche, diciamo, opere d'arte di questo tipo. E quindi, niente, quindi ho approcciato all'argomento in maniera molto entusiasta, diciamo così. Ecco, fatta questa premessa, per parlare di apparato genitale femminile, così come di tutti gli organi del nostro organismo, degli organi apparati, bisogna fare decenni anatomici. L'apparato genitale femminile è composto da tre settori, che sono i genitali esterni, le vie genitali e poi le gonadi, cioè le ovaie. E' fatta eccezione per i genitali esterni, che si trovano nel perineo, quindi sono in contatto con l'ambiente esterno, le vie genitali e le ovaie si localizzano nella parte inferiore dell'addome, che è detta anche pelvi. E sono in contatto con strutture anatomiche specifiche, che vedremo fra poco. Qual è la funzione dell'apparato genitale? La funzione fondamentale è quella della produzione dei gameti, quindi delle cellule uovo, che verranno poi fecondate per formare lo zigote durante la fecondazione. Della fecondazione che generalmente avviene, o meglio, diciamo, nella tuba, ma successivamente l'impianto in modo fisiologico viene nell'utero, tranne nei casi di, diciamo, gravidanza extrauterina. E poi delle importanti funzioni endocrine, cioè di produrre degli ormoni, come avviene nel ciclo mestruale, come le donne qui presenti conoscono bene. L'aspetto anatomico, come detto, è che l'apparato genitale femminile si localizza nella pelvide in comunicazione con diversi organi della parte inferiore dell'addome. Vedete che l'utero si trova nelle vicinanze, è interposto tra il retto posteriormente e la vescica anteriormente, sempre considerando che questa sezione è la parte anteriore dell'organismo e questa sezione dove si intravedono le vertebre, l'ombo sacro-coccige e la parte posteriore. I genitali interni sono connessi e mantenuti in sede da alcune strutture di sostegno, che sono i cosiddetti legamenti, ed è in comunicazione, in contatto con il peritoneo attraverso il foglietto parietale. Gli organi genitali sono extraperitoneali e diciamo che il peritoneo forma delle riflessioni sugli stessi organi, definiti appunto legamenti. Le ovaie sono due strutture pari e simmetriche, localizzate nella maggior parte dei casi a destra e a sinistra dello scavo pelvico, e sono in comunicazione con l'utero attraverso le tube uterine. La parte terminale in comunicazione con le ovaie delle tube si chiamano fimbri e generalmente sono pervie. Poi vedremo anche in casi di infertilità come può accadere che queste fibre siano chiuse. La cavità uterina è una cavità virtuale dove generalmente c'è solo un film sottile di liquido e che può riempirsi di materiale variegato in base a diverse condizioni patologiche. Verso il basso poi l'utero è costituito da diverse porzioni, una parte superiore che è il fondo, una parte intermedia che è il corpo e poi una parte inferiore che si chiama cervice uterina o collo dell'utero che è un'unità morfo funzionale anatomica separata dall'utero e poi anche in ambito patologico esistono delle patologie proprio differenti in base alle diverse aree anatomiche dell'utero. Il cervice uterina prosegue poi inferiormente con la vagina che è in comunicazione con gli organi genitali esterni. Queste sono altre immagini dell'utero, questa è vista dall'alto dove sono dimostrati i vari legamenti uterini che tengono gli organi genitali in sede, quindi vedete questo legamento utero-ovarico, legamenti larghi, le ovaie e inferiormente la vagina. Questa è una sezione aperta che dimostra, aperta meglio coronale, immaginando di sezionare verticalmente l'utero dove è dimostrata la cavità uterina, il fondo, il corpo e la cervice uterina. Questi sono i famosi fornici vaginali, li mettono in comunicazione, sono un punto di passaggio tra il collo dell'utero e la vagina, sono importanti soprattutto per la diffusione neoplastica. L'utero è costituito da diversi strati, lo strato interno che è l'endometrio e poi da una spessa struttura muscolare che è il miometrio, superficialmente poi si aderisce il peritoneo. Il ciclo mestruale è una parte fondamentale, come ripeto le donne qua lo sanno, ma anche un po' gli uomini, soprattutto nella fase mestruale se lo sanno bene cosa vuol dire, però generalmente, nello specifico, gli influssi, le influenze ormonali agiscono sull'utero in questo senso. Durante la mestruazione lo spessore dell'endometrio si riduce notevolmente perché si disgrega proprio nella fase di mestruo, mentre, diciamo, dal quinto giorno fino alla fase secretiva, quindi fino al ventesimo giorno, la parete, l'endometrio tende a espessirsi sempre di più perché deve prepararsi all'eventuale impianto dello zigote. Qui ci sono questi ormoni, ormoni sia ovarici che ipofisali, che influiscono sullo spessore dell'endometrio per poi ridursi bruscamente circa al ventottesimo giorno nel momento in cui si ha la disgregazione mestruale della fase del mestruo. Questo per dire che è sempre importante sapere in che fase del ciclo sia la paziente che viene a eseguire un esame, uno studio ginecologico radiologico, diciamo, radiologico ecografico, perché in queste immagini di utero, entrambi gli uteri sono normali, cioè non esiste patologia, però nella fase secretiva l'endometrio, la fase poliferativa, quindi nella fase iniziale del ciclo mestruale, l'endometrio è poco spesso, mentre nella fase secretiva è molto spesso. Vedete queste immagini ecografiche di un utero che ha una forma volgarmente a peperone, diciamo, sfondo il corpo poi verso il basso della cervice. Questo è il miometrio, che è ipoecogeno in ecografia, e l'endometrio iperecogeno. Alla prima domanda, quali sono le indicazioni allo studio radiologico della parte genitale femminile? Tutte queste, diciamo, evenienze che ho citato sono oggetto di studio radiologico. E la seconda domanda, qual sia l'indagine di primo livello per lo studio della parte genitale femminile? Penso che sia intuitivo, perché sicuramente l'ecografia rappresenta l'indagine di primo livello, se non altro perché è un'indagine non invasiva e non utilizza le azioni immunizzanti. Quindi l'armamentario radiologico per lo studio dell'imaging della parte genitale femminile è rappresentato, diciamo, in gran parte dall'ecografia e dalla risonanza magnetica, perché sono indagini che non utilizzano le azioni immunizzanti e perché sono le indagini più specifiche nella differenziazione dei tessuti molli, quindi che hanno una maggiore soluzione spaziale di contrasto. L'attac si esegue solo in case di patologie maligne, o meglio, nella maggior parte delle case di patologie maligne, e poi esiste un capitolo particolare che è l'isterosalpingografia che viene effettuata soprattutto per lo studio dell'infertilità. L'ecografia è quindi un'indagine di primo livello, per motivi che sappiamo abbastanza bene, cioè poco costosa, non invasiva ed è ormai diffusa dappertutto, e viene eseguita sia un'ecografia di tipo endovaginale che transaddominale, poi ci sono dei casi più specifici come quella transperineale o transrettale che però non sono poi così diffuse. Permette l'ecografia in un'indagine di un'analisi morfologica dei genitali interni, in particolare dell'utero e delle ovaie, e poi con questi moduli come il color d'opera o con l'utilizzo del mezzo di contrasto possiamo avere informazioni aggiuntive sia sull'aspetto fisiologico che nell'ambito della patologia tumorale. L'ecografia transaddominale è l'indagine non di scelta, non è la prima indagine, perché l'indagine di scelta è quella transvaginale, ma che viene spesso eseguita per la sua rapidità di esecuzione, si utilizza delle sonde a bassa frequenza, quindi tra 3 e 5 MHz perché permettono una maggiore estensione in profondità, si esegue l'ecografia transaddominale quando c'è l'impossibilità, esiste l'impossibilità dell'ecografia transvaginale, per esempio nelle ragazze giovani o in caso di stenosi vaginale o per altri motivi. Permette di studiare le lesioni espansive ad aminoperviche con maggiore specificità rispetto all'ecografia transvaginale perché ha un più elevato potere di risoluzione spaziale e poi ci permette di osservare delle perte ginecologiche occasionali. Qua vi ho portato un caso clinico perché mi ricordo che era giugno di quest'anno, ieri una mattina presto per me, infatti ero ancora un po' ipoteso, però mi ho svegliato abbastanza a questo caso, e un ragazzo di 24 anni che viene a fare l'ecografia accompagnata da un ragazzo che poi presumo fosse il suo morosino, anzi dopo ho intuito che era il suo moroso, e veniva perché aveva mal di pancia, ha avuto mal di pancia di arrepa da due o tre giorni, allora il medico di base subito richiede il bolino verde, l'ecografia dell'addome, e quando arriva la ragazza era sintomatica il giorno dell'esame. Queste sono le immagini che vi ho salvato della mia ecografia addominale superiore, aveva il pancreas, il fegato, il regno, andava tutto bene, non aveva niente, a quel punto vado a vedere la parte bassa dell'addome, qua vediamo l'utero, vedete che una delle limitazioni dell'ecografia è il fatto dell'aria che ci impedisce la visualizzazione perfetta, però insomma riusciamo a intuire l'utero, se vi ricordate le immagini di prima, l'endometrio è un endometrio che deve essere sempre iperecogeno, in ecografia si vede iperecogeno, in questo caso ci sono queste piccole immagini tondeggianti ipoecogene che mi hanno fatto sospettare che questo fosse una camera ovulare, cioè che la ragazza fosse incinta. Quindi quando ho manifestato, non so se proprio ha ragione, questo sospetto alla ragazza, questa è stata la reazione di quello che ho poi capito di essere suo fidanzato. Presumo che la sua preoccupazione era giustificata perché il papà della ragazza che aspettava fuori aveva un aspetto simile a questo, il suo fratello minore aveva questo aspetto e poi questo qua era il fratello maggiore. Vabbè comunque per dire che la ragazza comunque sembra che sia resistita, questa è l'ecografia della stessa ragazza a settembre, vedete che l'ecografia morfologica del feto che sta crescendo bene per adesso. Quindi l'ecografia dell'addome è l'indagine di primo livello che ci permette anche occasionalmente di avere delle informazioni sugli organi genitali femminili, però l'indagine di prima scelta è sicuramente l'ecografia transvaginale che utilizza sonda a più alta frequenza e il go standard ginecologico perché c'è una minima interposizione di tessuto tra la sonda e l'organo in esame, quindi l'utero e le ovaie in particolare. Possiede però una minore profondità di campo, quindi non vediamo benissimo come quella transaddominale, per esempio eventuali versamenti profondi o altre condizioni patologiche. Vedete questa indagine transvaginale, la sonda è inserita all'interno, vediamo bene l'utero, la cavità uterina in questo caso è stata introdotta una minima quantità di liquido per dimostrarla meglio e vediamo in maniera più specifica rispetto all'indagine transaddominale lo spessore del miometrio. Una terza domanda che vi pongo è sullo studio della risonanza magnetica, abbiamo visto che la risonanza magnetica, gli organi genitali si studiano in prima istanza con l'ecografia e in seconda istanza con la risonanza magnetica come secondo livello, questo è il grande campo, le due grandi indagini per lo studio della prato genitale femminile. La risonanza magnetica secondo voi come viene eseguita? Queste sono le domande che vi pongo, poi vedremo quali sono le risposte, quindi l'insonanza magnetica ha una maggiore accuratezza diagnostica, più elevata risoluzione, ci permette una differenziazione tessutale migliore dell'ecografia ed è maggiormente specifica, poi logicamente costa un po' di più. Come viene eseguita allo studio della pelvi femminile nei tre piani dello spazio, generalmente comunque è fondamentale sia l'assiale che il sagittale perché dimostra nella sua estensione craniocaudale e soprattutto l'andamento dell'utero. Le sequenze si eseguono sia T1 che T2 pesate turbo spinenco, sequenze T1 con la saturazione del grasso e poi sequenze dinamiche che in base ai macchinari si chiamano in modo diverso e successivamente viene somministrato un mezzo di contrasto e quindi i gadiolini si eseguono T1 dopo MDC, la matrice è una matrice ad altra risoluzione e le sezioni sono sottili. Quindi la risposta alla mia domanda è sempre sequenze assiali e sagittali perché appunto senza MDC solo in alcuni casi, le sequenze T1, T2 pesate assiali non è vero perché abbiamo detto che facciamo anche le sagittali e spesso le coronali e poi si usa sempre in mezzo di contrasto paramagnetico, non è falso come vedremo più avanti perché in alcune circostanze non usiamo il mezzo di contrasto. Questa è una risonanza magnetica T2 sagittale, vedete l'endometrio iperintenso, la zona immediatamente in profondità che si chiama zona di transizione ipointensa e poi la parte esterna, il miometrio, che ha un'intensità di segnale intermedio. Questa è la vescica che in T2 è iperintensa contenendo liquido. Vedete che l'issonanza magnetica riusciamo a distinguere molto bene i tessuti e i vari strati dell'utero così come del collo uterino e della vagina. Con la risonanza magnetica poi si esegue uno studi dinamici dopo un mezzo di contrasto in tempi prestabiliti successivi all'iniezione endovena. A questo punto vi faccio un'altra domanda sulla TAC. La TAC, forse la risposta avrò già data prima, quando è che viene effettuata, se nel caso di stadiazione di neoplasia avanzata, se viene effettuata una patologia benigna o meno nel follow up di neoplasia e durante la radioterapia per lo studio radioterapico. La risposta è in tutte le precedenti perché in tutti questi casi possiamo eseguire la TAC per studiare la pelvi femminile. Quindi la TAC non è indicata una patologia benigna, ci può essere nel caso di riscontro accidentale di lesioni espansive e comunque nel caso di siamo in presenza di già evidenziate neoplasie maligne, allora la TAC viene eseguita per valutare l'estensione locale a distanza della neoplasia stessa e poi per il follow up a vedere come evolve la situazione. Questo è un caso di riscontro accidentale che spesso lo vediamo, soprattutto perché i pazienti ormai sono sempre più anziani. Nel caso di un fibroma queste sono scansioni assiali e sagittali, ricostruzioni sagittali di un attacco con mezzo di contrasto, vedete che i vasi sono opacizzati, questo è l'utero all'interno dello scavo pelvico, le articolazioni coxo femorali diciamo e questo è l'utero con questa lesione ipodensa e con calcificazioni periferiche che è un fibroma. Lo studio della pelvi femminile, quindi dell'apparato genitale, si esegue per studiare le patologie che coinvolgono tutte le parti che abbiamo visto prima dell'apparato stesso, quindi il ruolo dell'imaging è quello di effettuare delle ipotesi diagnostiche e con gli strumenti che abbiamo oggi, abbiamo una diciamo elevata accuratezza diagnostica o almeno tentiamo di avere una elevata accuratezza diagnostica, di effettuare delle diagnosi differenziali e poi di identificare l'organo d'origine, logicamente importante per il follow up delle neoplasie. Le lesioni benigni dell'utero sono rappresentate in questa diapositiva, la maggior parte sono le omiomi, cosiddetti omiomi o fibromi anche definiti, poi esistono anche varie altre condizioni come l'adenomiosi o l'endometriosi che vedremo poi nello specifico. Le omiomi sono delle lesioni benigne di dimensioni variabili, possono avere delle degenerazioni, gli aline, mixomatose, cistiche, quindi delle componenti anche grassose e omorragiche all'interno, calcificazioni nell'8% più o meno dei casi e poi ci sono delle forme rare come quelle sarcomatose o di estensione intravenosa. Si possono localizzare in tutte le parti dell'utero, più in superficie o più in profondità e l'aspetto ecografico è di questo tipo, in questa ecografia transaddominale, una lesione con margini regolari, disomogenea, questa transvaginale che ci permette come dicevo prima una migliore visualizzazione. Ci possono essere le omiomi multipli, sottomucosi o intramurali o extramurali, così come appunto le omiomi sottomucosi. Nella risonanza magnetica gli omiomi sono generalmente isointensi col miometrio in T1 e ipointensi in T2 rispetto al miometrio. Possono avere calcificazioni rappresentate da vuoto di segnali in T1 e T2 e poi possono andare incontro a dei fenomeni degenerativi come abbiamo visto prima, cistici o emorragici e quindi hanno un segnale di geomogeneo. Il mezzo di contrasto è variabile l'enhancement dopo MDC. Queste sono delle sequenze di risonanza magnetica assiali T1 e T2 pesate, vedete l'endometrio, la cavità endometriale, questo è un fibroma uterino ipointenso comunque della stessa intensità di segnale o comunque di intensità simile al miometrio, mentre in T2 è ipointenso con margini regolari. Stesso caso di le omioma nelle sequenze dopo mezzo di contrasto, così è, delle sequenze dinamiche, questo sempre le omioma a margini regolari che prende notevolmente contrasto dopo MDC. L'adenomiosi è una condizione di tessuto ghiandolare endometriale ectopico che si localizza invece di rimanere nell'endometrio all'interno del miometrio, colpisce giovani donne tra 35 e 50 anni e i sintomi sono dolore pervico, disminorrea e minorragia. Nel 25% associato alle omiomi la diagnosi si esegue con l'ecografia e risonanza magnetica come dicevamo prima. Possono avere un'alterata ecogenicità ma nella maggior parte dei casi sono ipoecogeni, quindi essendo delle cellule endometriali nel miometrio possono andare incontro, anzi vanno incontro a sanguinamento seguendo il ciclo mestruale essendo regolate dagli ormoni che vedevamo prima. In ecografia si vedono come dei noduli ecogeni con delle striature lineari, non hanno effetto massa e hanno margini mal definiti. Questo è un utero normale, sempre quello che vi dicevo prima, ecografia transvaginale, utero, fondo, corpo, cervice, linea endometriale omogenea, iperecogena, zona di transizione che vedevamo prima ipoecogena e poi il miometrio. Questo invece è l'adenomiosi, vedete come è tutto disomogenea e soprattutto c'è riusciamo a differenziare con difficoltà il passaggio da endometrio, la zona di transizione al miometrio. In risonanza magnetica l'adenomiosi è rappresentata da ipointensità in T1 e T2, c'è un ispessimento e disomogeneità del miometrio e poi ci sono delle aree iperintense sempre nel miometrio come foci endometriosici. C'è un ispessimento anche della linea giunzionale che vedevamo prima. Stesso caso, diciamo, paragonabile al caso ecografico di prima, sequenze sagittali T2 e normali, endometrio imperintenso, linea di transizione ipo e poi miometrio. Questo vedete in adenomiosi come è ispessita la zona di transizione e riusciamo a differenziare con difficoltà l'endometrio dalla zona di transizione stessa. L'adenomioma è un'adenomiosi focale come una specie di adenomiosi nodulare e ha le stesse caratteristiche di prima. L'endometriosi è anch'essa una patologia frequente perché colpisce soprattutto le giovani donne e si scopre che i sintomi principali sono il dolore cronico e poi in particolare l'infertilità. È una frequente patologia ginecologica perché colpisce circa il 10% delle donne in età fertile, quindi è un aspetto diagnostico importante. Cosa consiste nella presenza di tessuto endometriale al di fuori dell'utero? Prima nell'adenomiosi era all'interno del miometro, qua invece abbiamo tessuto endometriale quindi che va incontro alla regolazione ormonale al di fuori dell'utero. Frequentemente colpisce le ovai, il peritoneo o altri organi come la vescica, il colon. Vedete queste immagini, sono rappresentate tutte le varie sedi dove può annidarsi l'endometriosi, quindi queste cellule endometriali ectopiche nel retto, nelle fasce per i peritoneali che circondano il retto o anche la vescica. A livello dell'ovaio spesso sono frequenti. Come si studia? Con l'ecografia transvaginale, risonanza magnetica senza mezzo di contrasto, quindi è uno dei casi in cui non viene somministrato. Si fanno le sequenze T1 e T2 pesate sui tre piani dello spazio e poi delle sequenze T1 fassate assiali. I foci di sanguinamento sono iperintensi in T1. Questi sono casi di endometriosi. I polipendometriali, anche essi sono possibili ma diciamo di pertinenza più che altro ginecologica, si studiano con l'isterossonografia, con l'ecografia e poi nel caso fossero di dimensioni importanti con la risonanza magnetica. Per quanto riguarda le esioni maligne, la più frequente nell'utero è il carcinoma endometriale, dato che l'utero è formato da cellule, almeno l'endometria da cellule epiteliali, mentre i casi meno frequenti sono i sarcomi, come l'adenosarcoma, il carcinosarcoma e il sarcoma endometriale. Il carcinoma si presenta in T1 generalmente ipointenso con segnale intermedio, ipointenso anche in T2 nella fase precoce, dopo mezzo di contrasto a un enhancement, inferiore del miometrio. Nelle fasi successive invece l'enhancement è variabile. Questo è un caso, visto da noi il reparto, vedete sequenze T1 e T2 sagittali ed assiali, questa è la vescica, questo è l'utero, quindi sembra quasi un disegno che vedevamo prima, cioè dal davanti al dietro, vescica, utero, eretto, nell'utero ci sono questi noduli ipointensi che sappiamo essere dei fibromi come abbiamo visto prima, mentre all'interno della cavità endometriale c'è questa lesione espansiva che è il tumore della cervice, del tumore dell'endometrio. Sempre stesso paziente, sequenze T1 e T2 coronali e poi T1 assiale senza mezzo di contrasto e con mezzo di contrasto che dimostrano la lesione. Si eseguono poi delle sequenze dinamiche nelle fasi pre e dopo MDC, sempre fatte satte, vedete l'enhancement diverso nelle varie fasi dello studio e l'enhancement anche dei fibromi di prima. La stessa paziente ha poi fatto l'isterectomia, quindi questa è la dimostrazione del fatto che l'attacca la eseguiamo per studiare successivamente, o meglio per il follow up successivo di queste lesioni che fino adesso non esiste, diciamo, ripresa di malattia. Nel COO dell'utero abbiamo visto che una parte anatomica differente e, diciamo, indipendente dalle restanti parti dell'utero, ci possono essere lesioni sia benigne che maligne anche in questa sede. Nella maggior parte delle patologie maligne vedete che i carcinomi ne fanno da padrone. Il carcinoma squandoso è il 90% delle patologie maligne e questo che penso sia la palissiano per le donne qua presenti è legato, la maggior parte dei casi, al DNA del papillomavirus, quindi è indispensabile fare il pap test costantemente. Il segno clinico principale è il sanguinamento vaginale. In risonanza magnetica il carcinoma della cervice ha presente un segnale intermedio in T1 e intermedio iperintenso in T2, elevato in enhancement dopo MRC e poi nelle sequenze T2 e nelle sequenze dopo mezzo di contrasto si possono studiare bene le invasioni, le infiltrazioni delle strutture circostanti, dei parametri del retto e della vescica. Questo è il caso di un esempio di una paziente che è la nostra paziente, vedete sequenze di sagittali assiali e sagittali FATSAT, questa è questa sequenza assiale, neoplasia della cervice, questo è il fondo dell'utero, guardate come ristagna una grande quantità di liquido che normalmente non dovrebbe esserci proprio perché c'è una occlusione, una ostruzione notevole del lume della cervice. Dopo un trattamento radioterapico, stessa paziente, vedete pre-radioterapia la lesione è in questo livello, ristagna una grande quantità di liquido, guardate dopo la radioterapia la lesione si è ridotta notevolmente così come il ristagno di liquido. Nell'ovaio il ruolo dell'imaging è fondamentale per il follow up e per la valutazione preoperatoria delle neoplasie, quindi anche valutare se eseguono la paroscopia versus la parotomia, è importante poi per la diagnosi differenziale e come sempre si diceva prima, l'esame di primo livello è l'ecografia di secondo livello a risonanza magnetica. Le neiformazioni ovari che sono nella maggior parte dei casi originate da tumori di tipo epiteliale, i tumori invece delle cellule germinali sono circa il 15-20% dei casi e i più rari sono i tumori stromali di cui la maggior parte sono benigni. Questa è una classificazione ma non mi dilungo particolarmente. Le ovaie producono come si diceva prima le cellule germinali, cioè le cellule uovo che si presentano anche in ambito ecossia come l'ecografia che con la risonanza magnetica come cisti, quindi le cisti sono follicolari generalmente quando hanno delle dimensioni inferiori a 3 cm, possono anche avere dimensioni superiori, avere notevoli dimensioni ma devono comunque regredire entro due mesi altrimenti c'è qualcosa che non va. Possono essere uniloculari e avere immagini regolari però anche nelle cisti funzionali quindi benigne è una complicanza la rottura con eventuale sanguinamento. La cisti luteinica presenta pareti spesse e un enhancement parietale. Queste sono immagini di cisti funzionali che iperintensi in T2 e ipointensi in T1 non ci sono foci di sanguinamento e non ci sono lesioni aggettanti nel lume. Le cisti emorragiche hanno iperintensità in T1 e segnale iperintenso ma un po' disomogeneo in T2. Queste sono immagini di un cisto denoma sieroso che può essere anche di grosse dimensioni e occupare come in questo caso gran parte dello scavo pelvico estendendosi poi nella parte, nell'ipogastrio vedete come l'utero è spinto posteriormente e la vescica inferiormente. Vedete quante dimensioni possono anche assumere questi cisto denomi che sono benigni nell'ambito estologico ma che possono avere un effetto tra virgolette maligno sulle strutture vicine perché possono comprimere tutto quello che sta nel insedendo addominale. Il teratoma è una neoplasia composta da tessuti di due piline cellulari. di solito sono formazioni cistiche omunoculari oppure masse solite disomogenee. Possiede all'interno tessuto muscolare, ghiandolo e sebacee, può avere anche dei capelli, denti o tessuto adiposo. L'imaging si svolge in questo caso anche con la TAC. Questo nostro paziente che mi sembra che abbia visto anche Beppe, mi sembra che gli abbia sciulato le immagini senza chiedere però fa niente, era un teratoma maturo. Sì, vedete questa lesione dell'ovaio sinistro che rappresentava enhancement nel modulo colore. Queste sono le stesse immagini in risonanza magnetica T1 e T2 assiali. Vedete il modulo con diverse componenti, calcificazioni, sanguinamenti o componenti anche tipocistiche. Queste sono le immagini dopo il mezzo di contrasto. Le lesioni di spansile ovari che sono nella maggior parte dei casi dei carcinomi, quindi i carcinomi sono la stragrande maggioranza delle neoplasie maligne, possono essere delle masse cistiche uni o multiloculate e avere anche delle componenti solite. Frequentemente sono masse voluminose perché vengono diagnosticate tardivamente, quindi quando si presenta la nostra osservazione hanno già ascite o una carcinosi peritoneale o delle adenopatie, quindi sono già neoplasie avanzate. Questo è sempre un caso visto da noi, anzi l'ecografia l'ha fatta la Maria Bodini, la nostra collega, mentre l'attacca l'ho fatta poi io. Questa è l'ecografia di voluminosa formazione cistico-varica, a questo punto la Maria chiede giustamente di fare l'attacca, questa è l'attacca, vedete questa voluminosa lesione espansiva che a differenza di quelle di prima possiede delle componenti solide che aggettano nella cisti. In più vedete l'effetto compressivo sulle vie scrittrici urinarie per questa dilatazione di entrambe le vie scrittrici. Nella ricostruzione sagittale guardate le dimensioni e come si estende in superficie. Questo all'esame istologico è un cisto adenocarcinoma visto nell'attacca di aprile di quest'anno. Fa un po' di terapia ma non funziona più di tanto, infatti vedete che la lesione incrementa ancora di dimensioni e poi si presentano delle metastasi epatiche oltre che delle complicanze come l'embolia polmonare. L'attacca il genuo sempre anch'io in questo caso, Fortunello. Per dire che a volte è difficile anche eseguire una diagnosi, in questo caso è una, sempre vista da noi, una giovane donna con due addominali, questo è il dispositivo intrauterino, diciamo, questo è l'utero e poi aveva in sedia ovarica questa lesione neanche di grosse dimensioni ma con una componente liquida e una componente solida periferica. Facciamo l'attacca, è fatta io, e quindi è fatta io nel senso che mi diletto, cioè si vede che sono fortunato a beccare sempre questi casi, e lesione espansiva ovarica a questo livello, o disomogenea, alla diagnosi istologica un cistodenoma sieroso borderline, quindi teoricamente deve essere ancora benigno, però la definizione di borderline indica che non siamo poi così certi che sia benigno. Nella paziente si con isteroanisectomia, vedete che a distanza di tempo sta bene, non ci sono residui di malattia, né riprese di malattia. Come ultimo capitolo poi vi abbandono, è l'isterosalpingografia, è un'indagine radiografica, e direi che probabilmente è l'unica indagine radiografica che ci rimane da fare nell'ambito dello studio della patogenitale femminile, e serve per la valutazione dell'utero e delle tube. Ha un'indicazione precisa che è lo studio dell'infertilità, mentre le controindicazioni sono la gravidanza e le infezioni pelviche. Consiste nell'introduzione di mezzo di contrasto nell'endometrio, quindi all'interno della cavità uterina, il mezzo di contrasto opacizza, vedete, l'utero e le tube, che sono queste strutture che possono avere varie dimensioni e varie lunghezze. Il compito, diciamo, dell'isterosalpingografia è quello di dimostrare, prima di tutto, l'aspetto dell'utero, perché può influenzare anche un'eventuale infertilità, e poi vedere se le tube siano pervi. Qui c'è un mezzo di contrasto che sta spandendo nella cavità peritoneale ed è un segno positivo, perché vuol dire che le tube sono aperte, quindi la cellula uova può migrare dall'ovaio nelle tube ed essere eventualmente fecondato se passa di lì, per caso, uno spermatozoo o qualche spermatozoo. Queste invece sono delle immagini che dimostrano le varie forme che può assumere l'utero e le tube, l'utero unicorne, l'utero bicorne, e queste sono evenienze frequenti di infertilità. Chiusura postchirurgica delle tube, vedete che non c'è spandimento di mezzo di contrasto nel peritoneo, questa è evidentemente una delle cause dell'infertilità. Vi ringrazio, ho finito. Grazie.